Ciao a tutti, bentrovati sul mio canale Feri ASMR, io sono Federica e quello che state per guardare è un nuovo video ASMR rilassante in particolare questa sarà la risposta a un video tag, il Christmas tag, sono stata attaccata da Priscilla del canale Relax Yourself ASMR vi lascio il suo video giù in descrizione, non so chi sia l'autore del tag, se per caso lo sapete scrivete uno dei commenti comunque per farvi rilassare risponderò in whispering, quindi con questo tono di voce, sussurrato ah, un bel po' di domande riguardanti il Natale, in sottofondo credo possiate avvertire il suono delle fose di Jesse infatti se notate sono in una posizione un po' strana perché lo sto tenendo in braccio, lo sto congolando anche se non potete vederlo e il motivo è che come al solito appena ho accesso la videocamera ha iniziato a miacolare per ricevere attenzione immagino quindi indossate le cuffie, mettetevi comodi e noi iniziamo eccoci allora, prima di iniziare davvero a rispondere alle domande vorrei ringraziare Anonymous, un effetto di voi che mi ha inviato due regalini dalla mia wishlist di Amazon con una sola mano è davvero difficile prendere tutto, l'altra è occupata per tenere Jesse comunque questa era una delle due buste e l'altra era questa qui azzurra e i due regalini sono un caricatore con delle pile per la luce da tavolo che mi serve per fare video il faretto diciamo e il treppiedi piccolino, flessibile, molto molto utile per attaccare il microfono alla ring light per esempio quindi grazie Anonymous bene, possiamo iniziare con una delle domande ah, poi il tag prevede che io a mia volta nomini altre due o tre persone che dovrebbero rispondere al questionario e siccome non ho idea di chi abbia già fatto questo tipo di video nomino alcuni canali che spero non siano già stati taggati il primo canale che nomino è quello di Alice Ivernal ASMR il secondo canale che nomino è quello di Sverigia il terzo canale che nomino è quello di Chiara ASMR vediamo un po' se qualcuno non l'ha già fatto e se vuole rispondere le mie risposte saranno probabilmente un po' disincantate perché è un bel po' di tempo che non festeggio il Natale come si deve e probabilmente non sento più l'aria di questa festività come quando ero bambina ma ci sto lavorando per recuperare quindi prima domanda qual è il tuo film di Natale preferito? non amo assolutamente i film di Natale ma mi piace molto quindi fa eccezione The Nightmare Before Christmas è un film capolavoro a mio avviso e mi piace moltissimo quindi è l'unico film di Natale che mi venga in mente che potrei mettere nella lista dei preferiti seconda domanda seconda domanda colore di Natale preferito vado un po' controcorrente rispetto al mio outfit il mio colore di Natale preferito è l'oro il motivo è che l'oro è un colore molto molto strano e particolare che vedo bene solo in certi contesti pochi contesti e il Natale è uno di questi terza domanda hai mai costruito un pupazzo di neve? no, non ne ho mai costruito uno però una volta ho incontrato un pupazzo di neve e vi lascio la prova qui ho una foto di me accanto a questo pupazzo di neve domanda numero 4 puoi comprare un solo regalo a chi lo faresti? molto probabilmente se potessi comprare un unico regalo lo farei a me stessa oppure a Jesse perché non vorrei che qualcuno rimanesse male sentendosi escluso qualcuno della mia famiglia intendo pure dei miei amici quinta domanda apri i regali la vigilia o la mattina di Natale? allora nel tempo in cui scartavo i regali in questa festività lo facevo la sera della vigilia a casa dei miei nonni e la mattina di Natale a casa mia quindi scartavo regali provenienti da persone diverse adesso siccome Jesse sta facendo il pazzo sta ammiacolando tantissimo non so per quale motivo visto che ha già mangiato utilizzerò il calendario dell'avvento per gatti per dargli un premietto cosa ha quel muscerino? in realtà siamo rimasti un po' indietro con i giorni e sono arrivata solo alla dunque 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 al 5 di dicembre si sono decisamente indietro quindi Jesse adesso cerchiamo il 5 di dicembre eccolo qui vedete qui dentro c'è il croccantino il croccantino mamma mia non capisco perché tanti di addentare una mano che schifo ok passiamo alla sesta domanda cosa ami fare durante le vacanze di Natale? non ho vacanze di Natale in realtà perché lavorando in proprio le festività non sono proprio considerate però durante il periodo di Natale c'è qualcosa che sicuramente non mi piace fare e cioè andare a fare shopping per centri commerciali perché c'è un trambusto allucinante e veramente troppo troppo caos troppa gente quindi non si capisce nulla io non ci riesco settima domanda se non sbaglio qual è il tuo desiderio natalizio più grande? il mio desiderio natalizio più grande si sta avverando spero era quello di ritrovare un po' la serenità dopo un anno il 2019 passato in maniera veramente veramente assurda difficile e credo che però appunto si stia avverando perché sono accadute cose belle ultimamente e quindi mi sento di nuovo felice la prossima domanda è qual è l'odore che ti ricorda di più il Natale? direi l'odore di eucalipto di muschio e di pino quindi odore di alberi piatto natalizio preferito questa dovrebbe essere la domanda numero 9 perché quella di prima è la domanda numero 8 8 8 quindi piatto natalizio preferito non ne ho uno ovviamente c'è un dolce che mi ricorda tantissimo il Natale come potrebbero ricordarmelo ed è il pandoro che è uno dei miei dolci preferiti prodotti make up must have che non possono mancare il giorno di Natale ma direi semplicemente il rossetto rosso credo sia un must have poi la prossima domanda che dovrebbe essere l'undicesima puoi elencare tutti i nomi delle renne di papà natale assolutamente no perché non li conosco però mi sembra che una delle renne si chiami rufus è vero non è vero fatemelo sapere qui sotto nei commenti poi la prossima domanda chiede qual è il regalo migliore che tu abbia mai ricevuto ce ne sono stati veramente tanti di bei regali e uno che mi è rimasto troppo impresso è stato un teatro un teatrino di burattini che mi regalò mio padre tantissimi anni fa credo proprio a natale appunto ero molto affezionata a quel giocattolo però non ce l'ho più è rimasto in qualche casa vecchia abbandonato durante uno dei tanti traslochi che ho dovuto fare poi a parte quello sicuramente i regali più belli sono i regali fatti dagli amici e i regali fatti dalle persone affezionate a me che mi vogliono bene infatti ultimamente da quando ho aperto la lista a amazonna sono veramente piena di gioia nel ricevere i vostri pensierini e nel leggere i bigliettini che mi scrivete quindi grazie anche a tutti voi che mi avete donato qualcosa per il canale a proposito qualcuno di voi mi ha suggerito di aggiornare la wishlist aggiungendo qualche regalino per Jesse non so se farlo ci penserò un attimo però magari si vediamo un po' la domanda numero 13 ti piace decorare la tua casa per le feste qui vi cito una frase che è uscita in una conversazione tra me e un'altra persona proprio di recente ovvero non credo nel Natale ma credo nelle decorazioni per moltissimi anni ho un po' dimenticato di decorare la casa come anche di festeggiare le ricorrenze e questo non va bene quindi riprenderò a decorare la casa ovviamente avendo un gatto e l'altro non si può fare quindi ripiegherò su qualche altra decorazione più piccolina e meno accessibile agli artigli di Jesse la prossima domanda 14 sii sincera preferisci ricevere o fare i regali entrambi entrambi però fare i regali è sicuramente un momento molto 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 piacevole per me perché nel fare un regalo devo pensare a quello che l'altra persona potrebbe apprezzare poi c'è tutta la parte dell'impacchettamento del bigliettino quindi fare i regali è sicuramente molto bello ma anche riceverli se sono fatti con il cuore poi qual è il posto che sogni di visitare durante le vacanze di Natale non ce n'è uno in realtà sto benissimo anche qui ma se dovessi viaggiare durante le vacanze di Natale mi piacerebbe moltissimo tornare a Cracovia perché quando ci sono stata diversi anni fa era proprio nel periodo di Natale è stato veramente molto emozionante vedere la città ricopentata dalla neve e i mercatini di Natale molto molto bello penultima domanda qual è la tua canzone di Natale preferita oddio forse 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 happy christmas war is over e in ultimo sei brava a impacchettare i regali di Natale oppure fallisci miseramente lascio giudicare a voi attraverso un video che vi lascio qui nella i dove impacchettavo dei regali di Natale comunque in sintesi non sono bravissima c'è una mia amica che è molto 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 più brava di me però diciamo che me la cavo comunque quanto meno ci provo e basta io spero che questo video vi sia piaciuto spero che vi siate rilassati ricordatevi di mi piaciare questo video se vi è piaciuto di lasciarmi un vostro commento per farmi sapere volando le vostre risposte a queste domande che vi riassumo giù in infobox ditemi anche se festeggiate il Natale se vi piace come festività oppure se non ci credete se preferite altri periodi dell'anno e ricordatevi di tenervi pronti perché tra poco verrà annunciato il vincitore o meglio verranno annunciati i vincitori del giveaway delle cuffie sleep phones quello sarà il mio regalino di Natale per voi basta così spero possiate addormentarvi sereni vi mando tanti 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 bacini fatosi e noi ci vediamo come al solito se vi va al prossimo video ciao adesso tocca a te hai già lasciato il mi piace iscriviti e clicca sulla campanella per non perderci di vista oppure abbonati se vuoi sostenermi ed entrare a far parte della ferigree ah e se vuoi continuare a rilassarti clicca su uno di questi altri video che ti lascio qui intorno penso possano piacerti buonanotte buonanotte